buongiorno dai musei del cibo per una nuova puntata di un oggetto una storia oggi parleremo della falce messoria che si conserva nel museo della pasta presso la corte di giarola di ambito parmense realizzata in ferro e legno databile al primo quarto del novecento questo strumento è costituito da una sottile lamina arcuata di forma semiovale appuntita a una delle estremità e ribattuta nella parte interna fino ad avere un filo taglientissimo all'estremità opposta è fissata a un corto manico di legno era utilizzata dai contadini per la mietitura del frumento che avveniva tradizionalmente alla fine di giugno e che costituiva la fase finale del ciclo di produzione iniziato nell'autunno dell'anno precedente si iniziava il lavoro la mattina presto perché la rugiada notturna manteneva le spieghe umide e impediva la caduta dei grani preziosi con la mano sinistra o con la destra per i mancini si afferrava un certo numero di steli da recidere il mannello e con l'altra mano si tagliava muovendo la falce verso di sé lo strumento mosso da destra verso sinistra con andamento curvilineo in senso anti orario veniva passato con un colpo molto secco alla base del vegetale in posizione orizzontale così recidendolo prima dell'uso la falce veniva ribattuta sull'incudine con il martello mentre durante la mietitura si affilava periodicamente ripassandola con la cote una pietra abrasiva naturale che per operare in modo efficace doveva essere bagnata la denominazione falce messoria cioè per le messi distingue questo strumento a manico corto usato appunto per la mietitura dalla falce fienaia usata invece per tagliare nel gergo segare il foraggio abbandonata solo alla metà del novecento quando dalla mietitura manuale si passò a quella meccanica per la sua funzione così specializzata e insostituibile è rimasta nell'immaginario collettivo come il simbolo della classe contadina e del lavoro nei campi